...e anche in votazione segreta, a mezzo di schede, con un voto emilata a un solo candidato. Risulteremente il Presidente della Sedevola di rinforzo della Presenza della Sedevità si dà l'emozione del Presidente che dovrà essere preparato comunque prima di proseguire la trattazione degli altri argomenti scritti all'ordine del lavoro. In fuori di impregolarità responsabile di la generia, invito nel voto gli uffici della Segreteria Generale a distribuire le schede.